Sulla prima parte l'opposizione della Lega, la Delega Fiscale era prevista, quindi andremo avanti. Non è la prima volta che si oppone, c'è stato un voto in commissione, è stato vinto dal Governo due volte se non sbaglio, speriamo di vincerlo di nuovo. No, quella è una risposta che noi l'espulsione dei 30 diplomatici o pseudo diplomatici russi non ha a che vedere con la poca trasparenza o meno, ha a che vedere con analoghe azioni prese in altri paesi europei.